4 persone su 10 in Sicilia, secondo gli ultimi dati Svimez, sono a rischio povertà. Il 72% dei lavoratori non riesce a raggiungere il 40% del reddito medio regionale. L'economia è in una fase critica di stagnazione ed è stato raggiunto il primato per la povertà educativa. Dinanzi a questo scenario preoccupante, 20 associazioni hanno aderito formalmente all'alleanza contro la povertà sicilia, che si è costituita a Caltanissetta. L'intento è quello di reagire all'immobilismo delle istituzioni a fronte dell'aumento dei poveri, così come ha ribadito ai nostri microfoni il presidente regionale delle ACLI, Stefano Parisi, associazione che ha aderito all'alleanza. Anche in Sicilia si è riunita l'alleanza contro la povertà a livello regionale. Oltre 20 associazioni hanno aderito e altre si stanno avvicinando a questo nostro progetto. A livello nazionale già l'alleanza contro la povertà ha raggiunto obiettivi importantissimi. È stata fondamentale la nostra presenza, ad esempio, per la stesura di alcune norme per la lotta contro la povertà e per il reddito di inclusione sociale. Già queste norme, queste leggi sono state vagliate alla Camera dei Deputati e adesso sono all'esame del Senato. Quindi la stessa cosa vogliamo fare in Sicilia. Vogliamo diventare interlocutori primari con le istituzioni, perché purtroppo ancora oggi in Sicilia il tema della povertà non è stato ancora affrontato in maniera incisiva. Ci sono fondi immensi per poter combattere le nuove povertà, che sono quelle tra l'altro più devastanti e purtroppo c'è una fase di stagnazione che noi non intendiamo più accettare. Ed è per questo che è iniziato questo percorso, che ci porterà ad interloquire direttamente con gli assessorati competenti e con il Governatore della Regione. Intanto è previsto un incontro nuovamente regionale per definire lo statuto e i regolamenti regionali e quindi dare una contezza a quello che stiamo facendo, leggendo gli organi. Dopodiché a livello tecnico già ci sono due incontri con gli assessorati competenti, uno il 13 ottobre a Palermo e l'altro il 14 ottobre a Catania, in cui si parlerà della SIA e noi saremo presenti per offrire il nostro contributo.